Scritte sui muri e sulle vetrine dei fondi vuoti, rifiuti e sporcizia per terra. Solo le insegne dei negozi e dei locali ricordano il vivace passato di Piazzetta San Carlo, che da salottino elegante del centro storico si è trasformata in pochi anni in una terra di nessuno, di cui spesso approfittano sbandati e ragazzi ubriachi e molesti. Degrado e abbandono vengono denunciati dai commercianti limitrofi, ma anche dai residenti della zona, che lamentano episodi spiacevoli, oltre al tanfo e agli schiamazzi. Nell'area di Vicolo San Carlo purtroppo si vede una scena di abbandono completo, oltre ai cassonetti dove abbiamo la fortuna di avere un esercito di cani che lo preferiscono per i loro bisogni, ma poi anche tutto il cortile all'interno completamente abbandonato, è chiaro che è un ricettacolo di nullafacenti e di persone che naturalmente non è che siano delle più scelte. Sarebbe proprio un gruppetto di giovanissimi ad aver molestato in orario di chiusura la titolare di uno storico negozio di Via Santa Croce. Ora gli esercenti chiedono controlli e maggiore sicurezza per quell'area del centro storico lasciata in uno stato di completo abbandono. La mia fortuna è che chiudo alle 8 e non è che mi sia accorto di qualcosa di strano. So che qualcuno si è lamentato e ripeto, magari io non so se il comune ha la possibilità di far passare una pattuglia ogni tanto, così almeno sono tutti ragazzi giovani, magari mi mettono un po' di ansia e riusciamo a risolvere questo caso qui.